Secondo la teoria del multiverso, tutte le volte che facciamo una scelta, l'universo si sdoppia. Da una parte ci siamo noi che affrontiamo le conseguenze di quella scelta, da qualche parte c'è un secondo universo dove una copia di noi affronta le conseguenze della scelta opposta. Milioni di persone che fanno milioni di scelte danno vita a milioni e milioni di universi. È un'ipotesi quasi inimmaginabile, ma questo libro ci viene in aiuto. Si intitola Tic Tac Tom e contiene all'interno tutti i possibili universi di una partita a Tris, in quanto tale è un libro che si può sfidare come se fosse un giocatore umano. Per sfidare il libro decidiamo di iniziare con la casella al centro, mettendo la nostra X al numero 5. Andiamo quindi a pagina 5, il libro ci risponde qui in alto a sinistra e noi decidiamo di mettere la nostra X sul numero 38. Andiamo quindi a pagina 38, il libro ci risponde qui in basso. Noi decidiamo di rispondere con questa casella in basso a sinistra, andando a pagina 216. Il libro ci risponde lassù proteggendo questa diagonale. Noi decidiamo quindi di contrantaccare al 482. Andiamo quindi a pagina 482. Il libro fa l'errore di mettere il suo cerchiolino qui, lasciandoci liberi di fare Tris a pagina 613.